Erika Stefani, la Lega Nord presenta questo disegno di legge per la legittima difesa. In pratica che cosa chiedete? A fronte di fatti che sono anche successi, e non da ultimo anche quelli di Vicenza con il celebre caso Stacchio, ma non è il solo, e a fronte di un aumento sicuramente dell'incidenza di reati predatori, di una situazione di criminalità veramente pericolosa, abbiamo ritenuto necessario di andare ulteriormente a proporre una modifica dell'articolo 52 del Codice Penale sull'Istituto della Legittima Difesa. E cos'è che abbiamo previsto noi fondamentalmente? È una presunzione di legittima difesa in alcuni casi. I casi sono quelli in cui l'aggressore violi il domicilio, quindi che ci sia una violazione di domicilio, un'abitazione privata e un'attività commerciale, e che lo faccia travisato o che ci siano più persone con possesso di armi o comunque che utilizzi violenza. Noi riteniamo che sia fondamentale che venga ritenuta una presunzione, e quindi di rendere l'aggredito, metterlo nella posizione di poter effettivamente difendersi, perché quando uno si trova a casa con uno che arriva armato, deve essere messo in condizione di difendersi, e non attendere che l'altro prima spari prima di poterlo fare.